Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Roma, per traffico intenso, ci sono code a tratti tra Firenze Scandici e Incisa Reggello. In uscita a Firenze Sud e tra Aglio e Calenzano. In direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e Barberino del Mugello. In A11 rallentamenti tra il Bivio per la 1 e Prato Ovest per incidente. Sulla FIPILI, code per lavori tra Pisa Nord-Est e Navacchio Visignano in direzione del Bivio Firenze e Livorno. Personale su strada segnalato per lavori tra Lavoria e Centro Intermodale Est in direzione Livorno. A Firenze, per i lavori della tramvia, cambiato il senso di marcia in Viale e Cadorna. Il tratto tra Via dello Statuto e Via Crispi è a senso unico. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!